in questo terzo video parliamo di callbacks le callbacks sono comunque relative alle funzioni e sono funzioni in realtà e abilitano una modalità di programmazione asincrona che è tipica di javascript ed è anche ben versata ben utilizzabile per per i web in generale giusto per mettere lo stesso background a disposizione per tutti diciamo così diciamo che fino fino ad ora voi avete tipicamente noi abbiamo anche in questi esempi fatti finora tipicamente utilizzato una modalità di programmazione sincrona le callbacks appunto abilitano una modalità di programmazione asincrona cosa vuol dire facciamo un esempio molto molto semplice immaginiamo che voi abbiate un programma che deve leggere da database qualcosa e questa lettura può essere magari molto complessa molto lunga può richiedere facciamo fin da 30 secondi e far partire un file musicale in esecuzione che il file musicale e la lettura da database sono due operazioni totalmente scorrelate l'una dall'altra ma il vostro programma deve leggere da database e magari mostrare a schermo il risultato di questa lettura da database e in parallelo far partire anche il file musicale allora per come conosciamo la programmazione finora anche in javascript quello che noi faremmo è ipoteticamente scrivere un programma che a un certo punto dice leggi da file leggi da fine acquiri sul database recupera dati dal database e stampa i risultati e subito dopo questo stampa i risultati potremmo scrivere una una funzione che dice esegui e questa file musicale da questa libreria di musica allora se noi eseguiamo questo programma per quello che abbiamo fatto finora in maniera diciamo così tradizionale alla c diciamo e quello che otteniamo è che per il programma parte e facciamo questa lettura da database aspettiamo così 30 secondi per riuscire a recuperare questa informazione immaginaria complessa da database stampiamo il risultato dopo che abbiamo stampato questo risultato facciamo partire la musica che non c'entra niente con il risultato no è completamente scollegata con il risultato la programmazione asincrona ci permette di rispondere alla domanda che è perché questa musica non può partire in parallelo alla lettura del database visto che sono due cose scollegate l'una dall'altra perché debbiamo aspettare 30 secondi prima di far partire la musica non possiamo far partire la musica e nel frattempo far sì che il database restituisca quello che deve in 30 secondi e mostrare risultati ecco questo è un pochino il concetto che si è dietro alla programmazione asincrona avere due componenti quindi avere un programma che a un certo punto dice mi serve fare una lettura del database falla delega qualcosa a fare questa lettura del database e nel momento in cui delega esegue l'istruzione dopo che è fai partire la musica quindi proceduralmente viene prima comunque chiamata l'istruzione legge la database dall'istruzione esegui la musica quello che cambia è che il legge la database delega qualcos'altro a qualcun altro questa lettura del database che quindi la lettura del database va in parallelo rispetto all'esecuzione del programma principale quindi in modalità sincrona il nostro programma dirà devo leggere la database ok per favore qualcuno legge la database immediatamente ritorna questa questa chiamata e qualcun altro si preoccuperà di leggere la database in quei 30 famosi secondi di prima e il programma principale che abbiamo scritto inizierà immediatamente l'esecuzione della della musica quando la lettura del database sarà finita quando saranno passati questi 30 secondi chi si preoccupa di leggere la database si preoccuperà anche di stampare a schermo il risultato di questa lettura questa è in brevissimo l'idea che sta dietro la programmazione asincrona la callback è una funzione come vi dicevo che abilita questa modalità e deve una funzione passata in un'altra funzione come un argomento questa funzione è poi invocata dentro una funzione esterna per completare alcune routine alcune azioni esattamente come vi dicevo prima questa callback in realtà può essere sia sincrona sia asincrona dipende poi dalla modalità e questo è un altro ma tipicamente asincrona e questo è un altro dei perché la callback è specifica è un qualcosa che appunto javascript utilizza molto e quindi si può si può utilizzare ci sono callback sincrone ci sono callback asincrone tipicamente però sono come vi dicevo asincrone e questo è l'altro caso che avevamo visto all'inizio quando parlavamo di funzioni una funzione si può passare come parametro di una funzione una funzione si può ritornare da una funzione l'abbiamo vista è una funzione si può assegnare una variabile e anche questo l'abbiamo visto nel video precedente quindi adesso stiamo vedendo il terzo caso una funzione si può passare come parametro a un'altra funzione è una callback appare in questo modo noi abbiamo un programma che edifici due funzioni una si chiama greeting che è quella che saluta come prima l'altra funzione è una funzione che si chiama process input che ha un parametro che si chiama callback perché così sappiamo di cosa stiamo parlando ma è un parametro e questa funzione prende un nome e poi chiama questo parametro come se fosse una funzione passandogli la variabile definita prima poi dopo la dichiarazione di queste due funzioni noi parte il nostro programma vero e proprio che chiama la seconda funzione passando nella seconda funzione come argomento la prima allora cosa succede a questo punto succede che quando noi chiamiamo process input qui passiamo greeting quindi quando arriviamo a questa riga è come se eseguissimo greeting passando a greeting questo parametro name e quindi il risultato di questa operazione sarà la stampa di hello.name le callback come vi dicevo possono essere asincrone o più spesso asincrone e quelle sincrone sono usate tipicamente nella programmazione funzionale con javascript per esempio qui c'è un esempio del sort il sort è un metodo per gli array quindi una funzione che senza parametro l'abbiamo visto nell'esercizio della settimana scorsa senza parametro ordina i valori in ordine alfabetico ma gli si può passare una funzione come parametro se si vuole cambiare la modalità di ordinamento quindi in questo caso alla funzione sort passiamo un'altra funzione in questo caso anonima in questo caso quindi senza nome del secondo tipo che abbiamo visto prima una function expression e una funzione cardioparametri a e b e ritorniamo a meno b quindi la modalità di ordinamento è questa prendo il primo lo sottraggono al secondo e quello che ritorno è la modalità di ordinamento e poi stampo number questo è l'equivalente di questa versione a sinistra ma scritta con un arrow function dove a e b appunto sono i parametri della funzione c'è l'arrow function e si torna il risultato di a meno b ricordate che un arrow function con una sola istruzione si può scrivere senza parentesi graffe e ritorna in automatico l'unica istruzione che c'è quindi a meno b questo è un altro esempio di una callback sincrona che stavolta filtra secondo un certo criterio utilizzando il metodo filter degli array di nuovi dove il metodo filter crea un nuovo array con tutti gli elementi per cui la callback restituisce vero quindi noi in questo caso vogliamo per esempio avere da questo array market un nuovo array che al suo interno abbia solo quelli che hanno uno stock minore di zero quindi solo google e microsoft direi perché amazon ha uno stock un valore di stock maggiore di due maggiore di zero quindi in questo caso è un filtro è una specie di cerca il filtro è un filtro su questa variabile secondo una certa condizione questa condizione che la seconda proprietà all'interno dell'oggetto sia appunto minore di zero e questo è sincrono perché questo film questo filtraggio non viene completato solo dopo che la callback viene completata e non inizia il filtraggio della versione successiva le callback asincrone sono più usate nel mondo web per esempio alla pressione per per primo quando si preme un click quando si fa un click su un bottone tutto il resto continua a funzionare non è che il browser si pianta finché non l'azione collegata a quel clic che non viene eseguita per gestire operazioni di input output come aprire un documento leggerlo magari molto lungo magari abbiamo bisogno di fare altre operazioni in parallelo o per gestire degli intervalli di tempo per esempio con i timer e allora per fare un esempio anche di programmazione asincrona guardiamo i timer i timer sono appunto usili utili per rimandare l'esecuzione di una funzione e javascript ci offre due funzionalità per gestire timer un set time out quindi chiamo una callback una funzione di callback dopo un certo periodo di tempo dopo che un certo time out è scaduto oppure set interval eseguo la funzione di callback dopo un certo intervallo ma periodicamente quindi questo set time out vedete una funzione infatti una parentesi tonda all'interno di questa funzione si può definire un'altra funzione che è un arrow function che è appunto una che è appunto la callback che in questo caso ci stamperà schermo hey quando ci stamperà schermo hey dopo mille secondi quindi dopo un secondo e poi stamparemo i quindi se noi eseguiamo questo viene eseguita la prima riga quindi viene lanciata questa callback e viene eseguita la seconda riga e probabilmente dopo l'esecuzione della seconda riga a meno che questa esecuzione non ci metta più di un secondo verrà stampato hey a schermo questo è un altro modo per chiamare set time out quindi si può definire una funzione di callback all'interno di set time out oppure si può definire una funzione di callback a parte eventualmente con dei parametri in questo caso e poi passare questa funzione a set time out col suo time out di due secondi e gli eventuali parametri da passare a questa my function gli stessi che sono qui sopra il set interval invece ripete certe cose ogni tot di tempo ma si costruisce nella stessa maniera set interval funzione che può essere un arrow function interna o una funzione chiamata esternamente esattamente come set time out e il tempo con cui chiamare questo intervallo ed è anche possibile con la funzione clear interval per stuppare il set interval invece di eseguire un qualcosa ogni due secondi per sempre a un certo punto dico adesso basta l'abbiamo eseguito sufficientemente e questo adesso basta lo dico col clear interval passando un identificativo che è quello che mi restituisce il set interval quando lo chiamo per la prima volta quando lo inizializzo questo thread praticamente di intervalli di timer questo chiude la parte sulle callback e che poi riprenderemo quando parleremo della programmazione asincrona la prossima settimana e nel prossimo video faremo un piccolo accenno alle date e quindi